Allora quando sei lesbica in italia si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi ti tolgono lo specchietto ti bucano quattro gomme della macchina ci sono altre due di là e niente ovviamente ho fatto denuncia ma ovviamente non si fa un cazzo possiamo fare qualcosa membri della comunità lgbt per avere dei cazzo di diritti io mi sento chiamare ogni giorno puttana e pervertita adesso sono arrivati addirittura a danneggiarmi la macchina con la quale io vado tutti i giorni a lavorare ditemi voi cosa posso fare io mi alzo la mattina come ogni cristiano vado a lavorare pago il mio cazzo di muto e ho 23 anni lo pago da tre anni il mio muto non so quanta gente alla mia età faccia queste cose ma posso avere una mano gentilmente visto che lo stato non me la dà a a